Nome? Letizia. Soprannome? Leti. Cosa studi? Scienze umane. Un aggettivo per definirti? Ansiosa. Perché la pallavolo? Perché è la mia passione. A quanti anni hai iniziato? Sette. Hai altri hobby? Sì, la corsa. E moroso o morosi? Morosi. La parola che dici più spesso? Ansia. No. Canzone preferita? Non ne ho una. Il tuo idolo? L'Elisa. E quanto contano per te da 0 a 10 i tuoi compagni di squadra? Numero di maglietta? Diciassette. E porta fortuna? No, per niente. Piatto preferito? La pasta. E la rubacuori della squadra? L'Elisa e la Camilla. Lancia un hashtag? Hashtag Chiquita Banan.